Un lavoratore su cinque non è in regola con le norme a tutela del lavoro e la fotografia scattata nei campi della provincia di Salerno dal progetto Supreme finanziato con fondi europei per il contrasto dello sfruttamento in agricoltura e del caporalato. Ispettori del lavoro, carabinieri del NIL e delle stazioni territoriali, la Guardia di Finanza, cui si sono aggiunti in specifiche operazioni, anche ispettori INPS e dei servizi di prevenzione dell'ASL assistiti da mediatori culturali inviati dall'Organizzazione Internazionale per i Migranti hanno dato luogo nel periodo dall'11 maggio al 29 maggio ad un'operazione congiunta intesa alla prevenzione al contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Con 1300 controlli l'area di Salerno e provincia è stata quella con il maggior numero di ispezioni nell'ambito del progetto. I risultati delle operazioni con particolare riguardo ai fenomeni e alle irregolarità riscontrate sono stati illustrati questa mattina dal direttore dell'Ispettorato del lavoro di Salerno, Antonio Zoina. Su un totale di 94 aziende ispezionate sono state riscontrate 51 imprese irregolari, equamente ripartite tra la zona sud, quella della Piana del Sele, e la zona nord, nell'agronocerino sarnese. Nelle 94 aziende ispezionate sono stati ascoltati 583 lavoratori, risultati per il 50% comunitari e per l'altra metà extracomunitari con una buona presenza dell'etnia asiatica ma con assoluta prevenenza di africani. I braccianti rispetto ai quali sono stati riscontrati violazioni delle norme sono 128 e rappresentano il 20% del totale della mano d'opera trovata in tenta alle lavorazioni. È chiaro che è un territorio dove c'è una forte presenza di lavoratori in condizioni di disagio, soprattutto extracomunitari ed è chiaro che è facile che si sfoci nell'occupazione irregolare perché è personale disagiato. Diciamo che l'Ispettorato sta intervenendo all'interno di un progetto nazionale che si chiama Progetto Supreme e interviene in queste attività di vigilanza assistita, rispettorato da mediatori culturali che hanno il compito di assistere gli ispettori nella attività di vigilanza in materia di interpretariato ma anche poi di prendere contatto con i lavoratori stranieri per acquisire in qualche modo la loro fiducia e cercare di raccontare loro quali sono i diritti, quali sono gli istituti di protezione che il sistema appresta per i lavoratori particolarmente sfruttati e arrivare anche attraverso il loro contributo ad individuare eventuali situazioni datoriali che praticano lo sfruttamento. Vorrei però dire una cosa fondamentale che questa azione è stata possibile come tutte le operazioni che si fanno all'aperto in luoghi aperti attraverso una collaborazione straordinaria che l'Ispettorato ha con l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza all'interno di un progetto di sinergia ideato dal nostro Prefetto Dottor Russo già all'epoca del Covid. La sinergia, Ispettorato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ha portato nel periodo difficile, nel periodo epidemiologico, la provincia serena deve essere la provincia che in Italia ha realizzato il più alto numero di interventi in materia di rispetto dei protocolli di sicurezza all'interno delle aziende. 1.300 accertamenti, Salerno è la provincia che ha realizzato il più alto numero di accertamenti nei luoghi di lavoro a tutela della prevenzione dalla Covid-19.